Buongiorno, sono la dottoressa Justin Farina e oggi ti voglio parlare della dieta temporizzata. C'è una dieta in cui devi effettuare una programmazione anticipata di tutto ciò che andrai a consumare durante la tua giornata in quanto questo ti permette di raggiungere più facilmente il tuo peso forma. La dieta temporizzata si basa sulla temporizzazione, ossia nell'anticipare di molte ore la scelta di quello che andrai a mangiare durante la giornata in quanto è stato visto proprio da diversi studi fatti su diversi soggetti che la scelta nell'acquisto di cibo all'interno di un supermercato fatto in maniera programmata rispetto a una spesa effettuata all'ultimo momento ti permette appunto di comprare cibi meno calorici rispetto a quello che andresti a comprare quando preso proprio dal senso di fame. Anche per gli spuntini è stata vista la stessa cosa, devi cercare di programmare il tuo spuntino quindi andando a comprare magari della frutta, della verdura perché uno spuntino comprato all'ultimo momento ti tenderebbe a portare verso l'acquisto di magari barrette di cioccolato o comunque dei prodotti più calorici. Comunque per qualsiasi informazione noi siamo qui, alla farmacia di Nardos a cuore il tuo benessere.